Lui ride, lui ride, ma a me viene tanta la lacrima, viene tanto la lacrima, noi non ci siamo sentiti per un po' di tempo, per questi due giorni, tre, due e mezzo, c'è stato un po' di scazzo, ma come ho sempre detto abbiamo anche da badare ad altre cose, quindi purtroppo può succedere e quindi è capitato in questa situazione. Abbiamo avuto due notizie, la mia è stata un'illusione, la mia è stata un'illusione perché un amico ci ha detto, Tino, chiama la direttrice sanitaria di questa comunità perché sono pronti ad accogliere Leonardo, proprio, tac, abbiamo parlato orora con la direttrice sanitaria ed evidentemente le cose non stanno così, anche perché vi spieghiamo che ci sono delle comunità che lavorano sull'emergenza, quindi i tempi sono un po' più brevi. Invece ci sono delle comunità per cui il periodo di accoglienza prima dell'inserimento sono... Biblici? Non biblici, sono quelli che sono, sono quelli previsti dai protocolli, ma deve essere comunque, e questo lo hai sentito anche tu, ci deve essere comunque tutto il percorso fatto pubblico al CERT, per poi è il CERT che fa l'illusione in comunità, insomma, non è una cosa facile quando leggiamo dei commenti particolari su questa storia. Invece la notizia concreta, aspetta, perché la diciamo... La notizia concreta, vai, di là tu. La notizia concreta che stamattina mi hanno chiamato e vado in una casa comunità dove io non pago niente. Bassa soglia, basta soglia, quindi abbiamo finito di sborsare questi soldi buttati nel water, secondo il mio punto di vista rispetto a questa cosa, ma anche in questo caso i tempi per essere accolti in una casa... Mi hanno detto che 24 ore su 24, posso entrare quando voglio, come voglio. Ok, rispettando comunque le regole che comunque ci sono. Strada Scansano... Sì, l'importante è che abbiamo avuto questa benedetta notizia. Noi ringraziamo Luigi che da Casal Pusterlengo, in provincia di Lodi, conosci Casal Pusterlengo, Luigi ci ha fatto una donazione per queste notti, quattro notti. Quindi noi adesso utilizziamo una parte di questi soldi per pagare la notte di oggi, gli altri soldi li utilizzeremo per sostenere comunque Leonardo in questo periodo. Sappiamo che c'è altra gente che si sta facendo avanti, ovviamente, come diceva... Chi lo diceva, Tino? Non dire gatto nel sacco. Chi lo diceva? Buonanima di Muglia di Boscov. Quindi non diciamo gatto se non ce l'abbiamo nel sacco, ma intanto altri si stanno facendo avanti e aspettiamo ansiosi che possano quantomeno sostenerci in questa delicatissima missione di non far disperare Leonardo perché ogni tanto ha dei down importanti, pazzeschi, no? L'ultimo scazzo era per che cosa? Per le sigarette, perché ti hai rifatto tre pacchetti in poco tempo e anche noi le diamo contingentate le sigarette, non è che possiamo dare pacchetti e pacchetti e pacchetti, è giusto. Però poi lo capisce, questo è il fatto importante. Ma ci mancherebbe? No, non è così semplice. Ah, ok. Non è così semplice, nel senso che poi... E ho capito, quando è giusto, è giusto. Quando è giusto, è giusto. Dai, oggi mi sono alzato bene. Però poi c'è anche la notizia... Con il piede destro o sinistro? Eh sì, dopo la telefonata. Io lascio a perdere, sono caduto dal letto stamattina. C'è un'altra notizia però che l'amico Leonardo vuole essere scazzato la capa, come dicono a Milano, l'amico Leonardo vuole essere tirato le orecchie perché venerdì, anche con la mia complicità, ha dimenticato di andare a fare il tossicologico e quindi andiamo adesso... Ecco, tutti i cosi per la testa. Adesso proviamo, adesso proviamo, Tino, ad andare al third per provare a discusare. Ce lo fate fare oggi il tossicologico? Lo faccio oggi e venerdì. Il terzo tossicologico? Lo faccio venerdì. Anche perché siamo alla vigilia di un altro appuntamento importante che è quello del colloquio con lo psicologo. Per il resto c'è Mastercard, come dicevo la pubblicità. In realtà per il resto sta una fatica... C'è per il resto invece una gran fatica e questo lo diciamo sempre a chi pensa che queste siano passeggiate di salute. Invece c'è da dover fare i conti con la burocrazia, con le normative, con i protocolli, con i colpi di testa, con i momenti down, con una serie di situazioni che vanno risolte. Tino, e noi, i risolutori. Qua stiamo... Speriamo, è possibile. Speriamo più, però tanto abbiamo fatto, come disse l'acqua, la pietra... Io ho detto che venerdì era giusto andare. Che venerdì? Ho fatto quello che ho fatto. Alzare la voce. Quindi tu sei convinto che quello... Sì, perché venerdì, sabato e domenico non possono chiamare. E invece lunedì mattina, prima ora, non ho chiamato. Ho chiamato dieci minuti fa. Appena mi sono alzato. Sì. Mi fa sei Cassanelli Leonardo, io mi faccio sì. La comunità ti aspetta. Mi fa domani vuoi venire? Vediamo, ancora qualche notizia. Non ti muovere da qua, aspetta, vediamo. Dovesse essere qualche notizia. È lui, è lui. Lasciò il peccino. Chi è lui, è lui? Da Cassano Confuro. Cassano Cassanelli, capite? Non sta. Va bene, noi andiamo al CERT, speriamo di fare il terzo tossicologico. A voi... A voi che? A voi tutti. A voi il video, a noi i problemi. A noi i problemi, perché io sono capace di lasciarlo là. Aspetta, lo prendo, dai, lo prendo. Non è che lo prendi, dai. Lo prendo tutti i giorni, eh. Lo prendo tutti i giorni. Anche più volte al giorno, però questo è quanto. Beh. Andiamo a pagare prima... Andiamo prima là. Guardate, guarda. E io pago. Beh, non lo manco così. Anzi. E noi paghiamo. E noi, perché anche grazie a voi. Grazie Luigi da Casal Pusterlengo. Grazie di tutto. Dov'è Casal Pusterlengo? Dov'è Casal Pusterlengo? All'Odie, ha detto. Sì. Ah, eccolo qua. L'hai fatta tutta? Tutta, tutta. Quindi te l'hanno fatto fare. Va bene. Adesso è il prossimo, così ce lo memorizziamo. Lunedì. Quindi anziché farlo venerdì... Perché l'ho fatto oggi, mi ha detto non ti preoccupare, non è successo niente. Lo facciamo. Lo fai oggi e devi vivere solo lunedì, basta. Ok, perfetto. Invece ricordiamo che siamo alla vigilia dell'appuntamento con lo psicologo o la psicologa, dipende da chi. Psicologa. Psicologa? Mmm. Psicologa. Vedremo che cosa c'è in quella testa. State sintonizzati perché il prossimo passo sarà il trasloco. Trasloco, domani. Che poche. Sì, dimmi. Dimmi, ti lo. Posso fare una battuta dietro? Eh, vabbè, dai. La possiamo far fare? Certo, dai, vai. Vuoi rientrare nella tua testa per provare l'ebbrezza del vuoto assoluto? Non gli dare corda, stai ridendo, ti ho visto, stai ridendo. Meglio ridere che piangere. Eh, ho capito. Via, tate. Occhio, lo giro, ti tengo d'occhio.